buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo appuntamento quello di oggi come vedete non è il classico video che siete abituati a vedere sul mio canale cioè un video di viaggio ma bensì è un video molto semplice molto breve dove io vi voglio parlare di un progetto che sto portando avanti da parecchi mesi questo progetto si chiama travel blogger italia ed è un progetto che è stato creato e sviluppato insieme ad altri youtubers che condividono con me la passione del viaggio travel blogger italia è un progetto che ha come obiettivo quello di creare e riunire una grande community di viaggiatori per creare ma soprattutto per riunire una grande community di viaggiatori c'è bisogno di un luogo chiaramente il nostro luogo non è un luogo fisico ma è un luogo virtuale ebbene abbiamo creato un sito web www.travelblogger.it ed anche una pagina facebook adesso vi faccio vedere il nostro sito web che è un sito molto semplice molto intuitivo e diviso in sezioni ok allora ci troviamo sul nostro sito che come vedete e come vi ho già detto è un sito molto semplice e molto intuitivo innanzitutto è diviso in sezioni si parte dalla sezione dedicata a noi viaggiatori basterà andare a cliccare su uno dei nomi ad esempio un ricco sul sul mio che si aprirà tutta quanta la descrizione una bella descrizione di noi e tutti quanti i video di nostra proprietà dopo di che ci sono poi le varie sezioni noi abbiamo deciso di suddividere il sito in base a quanti continenti ne conosciamo cioè europa america asia africa e oceania chiaramente c'è anche la sezione dedicata all'italia e per quanto riguarda l'italia c'è la possibilità di poter visitare tutte quante le regioni e così via dicendo per america asia africa e oceania infine c'è la sezione contatti a che serve la sezione contatti fondamentalmente serve per entrare in contatto con noi ossia se avete bisogno di qualche consiglio per organizzare un vostro viaggio se avete voglia di darci un consiglio oppure se volete semplicemente farci dei complimenti dovete compilare questo form e spingere il tasto invia c'è anche la sezione dedicata alla newsletter perché è importante scrivervi alla newsletter perché chiaramente uno non è che sta tutto il giorno sul nostro sito ma se non vuoi rimanere indietro soprattutto se non ti vuoi perdere nulla del nostro del nostro sito hai la possibilità di iscriverti alla nostra newsletter inserendo qui il nome e qui la mail spingendo il tasto iscriviti chiaramente adesso io non l'ho compilato però non bisognerà compilarlo e riceverete ogni settimana i 10 video della settimana ok dopo aver parlato del sito parliamo adesso della pagina per quanto riguarda invece la pagina facebook la trovate al nome travel blogger italia allora la prima cosa che dovete fare è spingere il tasto mi piace se non siete iscritti alla newsletter spingere il tasto iscriviti e da quello poi andrei direttamente sulla nostra pagina sul nostro sito dove poter compilare il form per l'iscrizione alla newsletter e dopodiché potete anche invitare tutti quanti i vostri amici nella nostra pagina noi inseriremo innanzitutto tutta una serie di aforismi inseriremo tutte quante le novità del nostro progetto e in più ci saranno anche i nostri video ok per adesso è tutto spero che questo video vi sia piaciuto se così fosse iscrivetevi per chi non ancora non è iscritto nel mio canale lo potete fare qui sotto lasciate un commento e mi raccomando andate sul nostro sito iscrivetevi alla newsletter e soprattutto andate sulla nostra pagina facebook mettete mi piace e cominciare a seguirci tanto è tutto grazie